ciao a tutti benvenuti a questa prima guida sul tamagotchi peace eh sì perché oggi volevo vedere con voi il pierce dream coffret che è quello che si può ottenere insieme alla versione dream coffret appunto del tamagotchi peace che è quella che ho attualmente per cui senza indugiare ulteriormente vediamo quali sono le novità che si possono ottenere con questo pierce la prima cosa sono i personaggi per cui non è un pierce per cambiare personaggi attuali che avete no vi da tre nuovi personaggi adulti che sono coffret ci abbiamo appena visto stavamo dicendo coffret ci benici e starci per cui due femmine e un maschio che potete ottenere con un personaggio adolescente coffret ci utilizzando la coffret palette tre volte durante l'adolescenza per benici bisogna mangiare tre volte il sexy porridge dopo andiamo a vederli e con per ottenere starci con un maschio bisogna giocare tra volte al gioco di memory della yumex tv ok per cui andiamo a vedere di che si tratta prima di tutto andiamo a vedere qual è lo sfondo icone di questo pierce questo qua questo coi rossetti e tutto il resto poi per quanto riguarda i cibi andiamo al ristorante e i cibi introdotti con questo pierce sono questo che è il famoso sexy porridge che dovete mangiare per ottenere benici e c'è questo questa specie di mameci non si sa affatto di cosa poi al music caffè i nuovi cibi o meglio i dolci introdotti sono questi questo il primo questo è il secondo e questi sono il terzo dei biscotti non ho ancora capito cosa è tutto a dire il vero comunque la nostra immaginazione può essere tutto quello che vogliamo ecco a seconda di come lo immaginiamo per quanto riguarda la porta sotto i giochi c'è un gioco nuovo come vi dicevo prima che è quello del memory della umex tv che è questo tv shuffle bisogna evitare questo personaggio cerchiamo di completare il memory sembra già abbastanza facile e si ha un tempo limitato mi pare che sia un tempo tra i 30 e 45 secondi qualcosa del genere a volte è molto facile altre volte molto difficile come sempre d'altronde ecco negli ultimi secondi vi da un countdown e noi ce l'abbiamo fatta evitando il tizio che non bisogna pescare e questo è quanto per i giochi poi al reform scusate volevo andare lì abbiamo due nuovi sfondi due sfondi per la casa zona giorno che sono questo e poi quello attuale che ho impostato al momento cioè questo qua volendo cambiare l'altro andiamo subito living sempre mettiamo questo living sempre mettiamo questo ecco qua che sembra una specie di stage televisivo o qualcosa del genere e questi sono appunto i due sfondi poi al tamadepa vediamo i nuovi oggetti che si possono acquistare che sono questo per cui la cinepresa questa che è la coffret palette per cui per ottenere cofrecci un rossetto un ventaglio e basta al tamamori vediamo i vestiti e gli accessori nuovi questo e basta come vestiti e accessori ne abbiamo due cioè questo cappellino e questo cestino basta la nuova destinazione è la Umex TV per cui ci andiamo ecco qua e qua potete incontrare le star televisive che vi parlano di qualcosa ogni volta sono star diverse vediamo insieme direi qualche giocattolo per cui abbiamo detto tipo la cinepresa eh sì deve essere uno studio televisivo quello comunque queste sono le novità i contenuti meglio del Dream Coffret Pierce per cui spero che questo video vi sia piaciuto arriverò presto con altri video sul Tamagotchi Peace intanto vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda stupenda giornata ciao a tutti 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 ciao a tutti